Festaioli e MTIers, ecco che arrivano le anteprime di Sky per questo mese di dicembre. Alcuni di voi le aspetteranno sicuramente con ansia. Scopriamo quali sono. Partiamo! Lo voglio dire subito così da chiarire come stanno le cose. Non penso più che farò altre anticipazioni dedicate solo a Sky e Now in futuro. Il motivo è semplice davanti agli occhi di tutti. Sky ha un crollo di offerta che per costo qualità lo porta a livello di Rai o Mediaset. Sentimento personale ovviamente da ex cliente che ha abbandonato il servizio da anni dopo averlo usato per oltre un decennio. Non spaventatevi non smetterò di parlare di Sky che ha ricominciato a cercarmi per propormi abbonamenti ma semplicemente lo inserirò in un video con altri arrivi da diverse piattaforme gratuite o meno note dello streaming. Quindi godetevi queste anteprime natalizie che si parte con Jingle Bell, Jingle Bell. E infine venne il giorno. No, non è il titolo della prima attesissima novità ma il mio sarcasmo nell'aspettare l'arrivo della serie And Just Like That in uscita il 9 dicembre in lingua originale e il 18 in versione doppiata. Per quelli di voi che ignorano che sia è soltanto il seguito dopo ben 16 anni di Sex and the City con una nuova stagione delle nostre Carrie, Miranda e Charlotte. Ovviamente visto che il tempo è sì galantuomo ma anche inesorabile e quindi avanza, le nostre tre protagoniste ora sono più avanti con gli anni eppure le tematiche che verranno affrontate lo saranno con una riflessione anche sul loro passato. Si spera che la continuità sia preservata ma più che altro mi domando se veramente ci fosse questo bisogno impellente di ridare vita a questa serie. Viste le numerosissime fan direi proprio di sì. Ma riusciranno ad accontentarle? Quando ho letto il titolo di questo film non volevo davvero crederci pensavo solo di averlo sognato. Arriva Waiting for the Barbarians l'11 del mese, un film che vidi al cinema prima della chiusura dell'anno scorso, esattamente la settimana prima di quell'altro, ancora più estremo, Creators the Past. Lo sapete che mi flagello per voi nel vedere film di dubbio gusto e qualità. E quello 1 o 2 ammetto che mi ha provato. Comunque il problema è che questo Waiting for the Barbarians non è così brutto come si possa pensare, anzi mi ha affascinato da un certo punto di vista e ha pure una parte con Johnny Depp nel momento della sua caduta in Digest Grazia. Il film è particolare ma ben girato e con una bella fotografia. Ancora non ci ho trovato molto senso ma potreste provare voi se riuscite a sopportare tanta lentezza. La trama ci trasporta in un periodo coloniale di fine ottocento di una non ben identificata potenza straniera che ha conquistato zone desertiche che i barbari, come li definiscono gli invasori, vogliono riconquistare. Un film sociale, crudo e riflessivo pure troppo, dicevo. Provatelo e ditemi. Esce l'attesa quarta stagione di Yellowstone il 14 dicembre. Sinceramente mi domando attesa da chi, visto che ne sento ben poco parlare. Ma il cast è bello, con in testa Kevin Costner e la storia ambientata nel Montana, stato degli USA in noto per la sua minima densità abitativa, il parco nazionale che dà il nome alla serie e i nativi americani confinati nella riserva. Costner interpreta il capofamiglia dei Dutton che possiedono il più grande ranch dello stato. Questa famiglia dovrà vedersela non solo con la natura dispotica ma anche con interessi economici dei rivali. In questa quarta stagione si vedrà appunto come prosegue la storia sospesa di scontri familiari. Questa è una serie di Paramount e come diceva nel precedente video dedicato a Pluto TV è molto probabile che Paramount Plus arrivi con Sky circa dopo l'estate. Insomma un trattamento come quello di HBO mi sa. In arrivo a un film diciamo biografico, Tesla il 19 dicembre. Ovviamente incentrato sulla vita di Nikola Tesla, azzarderei quasi liberamente tratto. Vede nei panni del protagonista un buon Ethan Hawke. La storia è dedicata al personaggio oggigiorno al centro di molte teorie strane e assurde e si focalizza sui suoi successi con la corrente alternata, la bobina che appunto porta il suo cognome e con la diatriba storica tra Edison e Westinghouse. Senza dimenticarsi la complicata storia d'amore con la figlia di JP Morgan. Un film che però risulta nella media non offre chissà che soddisfazione o interesse nella visione. Allo stesso tempo però non lo sconsiglio. Quindi segnatevelo e poi ditemi la vostra nei commenti. Finalmente qualcosa che attendo con discreto interesse. Two weeks to live in arrivo il 26 dicembre. La protagonista come potete vedere è Arya Stark. No scusate, volevo dire Maisei Williams che interpreta una ragazza cresciuta assieme alla madre fuori dalla civilizzazione per così dire. La storia ingrana quando riuscendo a scappare dal controllo della madre incontra due ragazzi che per divertirsi le raccontano che l'umanità ha solo due settimane di vita. Poco importa perché lei ha come missione quella di uccidere la persona che le ha ucciso il padre. Storia particolare ma che pare interessante con una serie di sfortunati eventi ed incomprensioni che smuovono e che potrebbero rendere interessante e divertente la trama. Per concludere questa lista eccovi la seconda stagione di Temple. In arrivo il 27 dicembre ne avevo già parlato all'arrivo della prima stagione e questa serie con Mark Strong continua ad ispirarmi. Cosa non farebbe un uomo per curare la propria moglie da una rara malattia? Ovviamente aprire una clinica illegale in un tunnel abbandonato della metropolitana diventando così ben presto ricettacolo per i malviventi in cerca di cure. Dopo i fatti della prima stagione ritroveremo il nostro dottore impegnato nel mantenere la sua attività segreta agli apparati statali e al tenersi lontano da guai ben peggiori. Una serie con qualche difetto ma che continua a invogliarmi la visione. Vedremo in un mese di now magari più avanti. Volenti o nolenti carissimi MTIers siamo giunti alla fine di questo video e se speravate di avere qualche altra novità beh questa volta mi spiace non c'è proprio nulla ma voi mettete ugualmente un bel mi piace iscrivetevi al canale commentate e condividete questo video su tutti i vostri social io attendo di poter vedere l'arrivo di qualcosa di veramente imperdibile su sky ma ogni mese è quasi sempre peggio e ho perso le speranze di rivedere questa tv che mi ha dato tante gioie in passato ad un livello come quello dei colossi dello streaming purtroppo la vedo molto difficile ah giusto se avete notato che ho presentato sei novità ma nel titolo si parla solo di cinque è perché dovete trovare quella assolutamente da evitare divertitevi e alla prossima MTIers ciao ciao Grazie a tutti.